Ciao a tutti! Un grande saluto, specialmente alle ragazze e ai ragazzi che stanno guardando questo video. E ringrazio moltissimo la dottoressa Frida Paolella per aver organizzato questa bellissima conferenza per celebrare insieme la settimana mondiale dello spazio. Sono felicissima di essere con voi per questa grande occasione. Mi chiamo Valentina, studio informatica e fisica Alcaltech qui a Pasadena, Los Angeles. Sono nata nelle Marche e mi sono trasferita in California a 12 anni. Mi sono sempre piaciute le materie scientifiche. Questo grazie anche alla scuola italiana che mi ha trasmesso metodo e voglia di imparare nel vero senso della parola, con passione, non come robot che non vedono il significato di quello che fanno. A mio parere, una delle cose che distinguono noi italiani è l'ardore di conoscere, il desiderio di capire e la passione per approfondire la ricerca a livelli sempre più avanzati. Qua negli Stati Uniti le mie amiche volevano che io diventassi una cheerleader come loro. Non capivano perché a me piacevano la matematica e le scienze e io non capivo perché le ragazze evitavano queste materie. Col tempo mi sono chiarita. Volevano essere cool e non nerd, come a volte sono considerate le persone che studiano STEM, che sapete è acronimo per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Mi sono detta, questo non va bene. Ragazze, ragazzi, studiate le scienze perché le scienze sono il futuro. Il mondo STEM è incredibilmente cool. Ci sono ancora un sacco di scoperte da fare, di tecnologie da inventare, di soluzioni da trovare, di conoscenze da scoprire, di spazio da esplorare. Prendiamo ad esempio una cosa che sta succedendo in questo momento, la missione su Marte con il rover Perseverance e il drone Ingenuity, a cui la NASA, JPL e Caltech stanno lavorando e che stanno portando a scoperte favolose. L'idea che su Marte, a 400 milioni di chilometri da noi, 3 miliardi e mezzo di anni fa c'erano le condizioni per ospitare forme di vita, non vi fa venire i brividi. A me sì. Come altro esempio, la recente scoperta di una riserva d'acqua su Marte da parte di un team di italiani testimonia il valore del nostro paese. Questa scoperta, pubblicata su Science, è stata fatta grazie alle immagini ottenute da Marsis, il radar installato a bordo del European Mars Express Probe progettato e sviluppato negli stabilimenti di Talzalenia Spazio in Italia. È anche un grande esempio della collaborazione scientifica fra centri di ricerca e università come ASI, INAF, Università di Roma 3, Università d'Annunzio, CNR e Università La Sapienza di Roma. Pensiamo poi a tutto quello a cui stanno lavorando in realtà come NASA, JPL, Virgin Galactic, SpaceX, Lockheed Martin, Blue Origin, Northrop Grumman, Boeing e tantissime altre aziende, grandi e piccole. Tutto questo semplicemente per dire, nelle scienze e nella tecnologia le possibilità sono infinite. STEM è il futuro e nel futuro, per restare nel tema, c'è spazio per tutti. L'Italia nel mio cuore lo sarà sempre. Un caro saluto a tutti, al nostro bellissimo paese, al cibo, alla natura, alla cultura, alla brillantezza e al genio italiani, senza uguali nel mondo.